Ci troviamo sul lago Sirio, un episodio davvero inqualificabile, un avvelenamento probabilmente perché sono stati ritrovati diversi gatti morti. Intanto cerchiamo di capire che cosa è successo. Tu sei venuto al mattino, nella tua attività al momento ci sono dei lavori in corso, una ristrutturazione, che cosa hai trovato? Allora, entrando dal retro, come ho fatto i primi tre passi della discesa ho subito visto cinque gatti completamente immobili, ho provato a chiamarli ma ovviamente erano tutti e cinque morti, al che con l'aiuto del cuoco e di un'altra persona abbiamo fatto in modo di prenderli e purtroppo metterli in un sacco perché non sapevamo cosa fare, questo è quello che ci siamo trovati. Peraltro qui i gatti presenti nella zona, una zona anche tranquilla, non trafficata, mi dicevi sono diversi, ce n'erano quasi una ventina, al momento se ne vedono sì e no, due o tre ancora. Esatto, la cosa che non si capisce è che essendo chiusi e qua essendo una zona abbastanza isolata, tra virgolette, non riusciamo a capire che fine abbiano fatto tutti gli altri. Gatti di cui vi prendevate comunque cura perché c'era anche in atto una sterilizzazione di questa colonia? Esatto, i gatti vivevano qui felici e tranquilli e non c'era nessun grosso problema per loro, l'unico problema era legato al fatto che stavano diventando troppi, per cui con le varie associazioni animaliste e con l'aiuto e il contributo anche del comune di Chiaverano avevamo avviato questa campagna di sterilizzazione, ne avevamo già catturati sette e poi improvvisamente dopo carnevale i gatti hanno cominciato a non esserci più e poi abbiamo saputo del ritrovamento di sei gatti morti perché poi uno era stato trovato prima e gli altri scomparsi, per cui abbiamo cominciato a fare questa denuncia adesso appunto al sindaco, a voi e ai vari organi di stampa perché comunque non è accettabile che si pensi di risolvere un problema che poi non è un problema, ripeto, perché gli animali hanno il diritto di vivere nel loro ambiente e purtroppo però non tutti la pensano in questo modo, per cui spendere tempo e soldi per occuparsi di animali sembra veramente una cosa inutile a molti, a qualcuno comunque. Peraltro ricordiamo uccidere e fare del male degli animali è reato, le persone o la persona che ha fatto questo gesto orribile sappia bene c'è una denuncia ed è un reato questo. Senz'altro, penso che siano informati di questo chiaramente, contano sul fatto di rimanere impuniti perché comunque qui nessuno ha visto niente, quindi senz'altro rimarranno impuniti, però intanto noi abbiamo il dovere civico di denunciare questa situazione, questo fatto. Sindaco, un atto davvero inqualificabile questo? Sì, assolutamente, proprio in maniera molto incivile di risolvere un problema che non è anche un problema, quindi questi gatti non davano fastidio a nessuno, quindi non c'è nessun motivo logico che non ci sarebbe stato neanche se erano in centro paese, ancora di più in un posto in cui probabilmente non crea un problema proprio a nessuno. Che cosa si può fare se si può fare qualcosa per evitare situazioni come queste? Come minimo possiamo esporre una denuncia e poi rendere noto il più possibile che si sia svolto questo fatto in modo che ci sia almeno un minimo di timore nel ripeterlo. Grazie. 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 Grazie.